E' uno strano lavoro, queste luci invadenti, questi occhi curiosi che ci studiano attenti. Questa attesa già accesa, che si tocca e la senti, non conosci nessuno, ti salutano in tanti, sì. Ma tu qui davanti, ma tu cosa pensi che ci dia questa vita di più? Quando tu ti andate via, qualche storia di più, qualche spaglio di più. La valigia già chiusa, per la prossima scena. Non rimane mai niente, d'antemani e nessuna. Non rimane mai niente, solo prendere e andare. E di questo alla gente non ne posso parlare. Se tu sai guardare di un lato dove noi torniamo noi, una storia vedrai. Tu è la vera che non sai. Non ne posso parlare di un lato dove noi torniamo noi, se tu sai guardare di un lato dove noi torniamo noi. Grazie a tutti.